Continuano ad imperversare i disagi che stanno colpendo in questi giorni il settore agricolo. In un contesto nazionale ed europeo di protesta si inserisce a Larino la costituzione dell'Associazione Uniti per l'Agricoltura. Proprio nella sala consigliare del Comune Frentano è stata infatti presentata la nuova associazione, composta da giovani agricoltori del territorio e costituita con l'intento di manifestare tutte le problematiche che il comparto sta soffrendo. In questo clima di protesta sarà organizzato a partire da martedì prossimo 6 febbraio un presidio di trattori a Termoli che proseguirà anche il giorno successivo con un corteo di trattori agricoli che si muoverà da Termoli verso la strada statale 16. Gli agricoltori appartenenti a questa associazione lamentano tante problematiche, chiedendo modifiche alla politica agricola comunitaria che, come sostengono, chiede sacrifici insostenibili agli imprenditori agricoli, unitamente al crollo del prezzo dei prodotti a fronte di un rincaro degli input, anche a carattere regionale, con problematiche relative al dilagare incontrollato della fauna selvatica, la scarsità di fondi stanziati sui bandi PSR e i disservizi legati ai consorsi di bonifica. I giovani del direttivo affermano che c'è bisogno di far sentire la loro voce, ritenendo di fondamentale importanza il coinvolgimento dei consumatori finali, che loro malgrado si ritrovano ad essere del tutto ignari delle dinamiche legate alla coltivazione dei prodotti che quotidianamente consumano.